Anche ad Andria questa mattina tradizionale appuntamento con la commemorazione dei defunti nel cimitero della città alla presenza del sindaco Nicola Giorgino e del vescovo Monsignor Raffaele Calabro. È sempre importante quando il popolo di Dio celebra i suoi defunti. Si è un ricordo che è un dovere insomma ricordare le persone che ci hanno preceduto nella vita e ci hanno avviato verso la maturità. E li ricordiamo nel Signore perché queste tombe secondo la fede cristiana non nascondono dei corpi certamente che si corrompono ma delle persone vive. E quindi è giusto ricordarli e sentirli presenti nella nostra vita. Noi offriamo il suffraggio al Signore insomma perché si può ottenere un'abbreviazione delle sofferenze che hanno nel purgatorio. Però sappiamo pure che loro pregono per i loro familiari. Credo che sia un momento di grande riflessione, di profonda riflessione soprattutto perché si rende omaggio ai defunti, a coloro che hanno rappresentato una storia, una parte importante della storia della nostra città e della nostra comunità. Molti sono anche sacrificati per ideali di libertà e di democrazia per cui è un giusto omaggio che la città deve ai suoi defunti e soprattutto per ristabilire una comunione spirituale fondamentale per un vivere civico e sociale nell'ambito della nostra città. Grazie